quindi ci sarà la safety car e penso ubiata da lui ha fatto disastri imola figurati qua ecco pollero la clan non c'è neanche la mina vagante stasera acettone? no acettone c'è quell'altro quello che è ancora più pericoloso di acettone vecchio come cazzo si chiama? ahia cazzo eh bravo il parente di che mondo è il nonno porca troia è andato forfe stasera meno male parla di prostata ha detto ma c'è uno che gli ha fatto regolavo che ha imola la sportellata in rettilineo ma come cazzo fai? ah Luca basta è più tornato boh Luca però eh adesso è tornato sì si pista si si pista si allo sei rinato? che palle io voglio l'assetto di ivano lord non so se si può smettere da scherzo scherzo tanto abbiamo qui dei diversi probabilmente allora aspetta 43 litri Luca prova come abbiamo detto abbassare un po' la pressione frenata adesso si adesso lo volevo proprio provare comunque a 68 io adesso mi trovavo meglio però è la pressione frenata che magari va meglio nel senso ovvio al discorso che magari devi bloccare sull'anteriore si si non metto al 90 e bastano comunque passi da spandolo dell'1 per cento davanti passi dal che ti passa davanti avere il culo che perfetto perché si è si dice un po' di problema anche al senso vero che parte di culo a frenare se io ho 63 e mezzo davanti ah se lo metto a 63 io faccio drift cazzo lui è andato a 68 mi è messo a 68 ma che mondo fa la sociale stasera? no, avete detto di mettere perché mi sembra che sono solo io avendo non può mettere l'attivazione vocale? ecco ho capito ma tu bestemmi è troppo ma che bestemmi è troppo era quello che bestemmia? ma no, era che è il Beppe che bestemmia? vi ricordo anche che siete in diretta eh quando mai? mai bestemmiato in vita mia io mai bestemmiato e mai eruttato mi sentite? purtroppo il TS ma sono i cambi che vengono fatti male Ivan, tu hai detto che hai il Fanatec volante si, per avere il G27 però si, ma il volante Fanatec Club Sport V1 no CSV come si chiamano, non va al genere? ma è quello che... c'è la finestrella che vedi dentro le cinghie? no, quello dopo ah ok quello più basso di adesso però hai preso un nuovo? si, l'anno scorso con il Black Friday costava tanto o meno? si tipo? boh, non so ciò che c'era anche, costava tanto o meno c'era anche la pedaliera che poi ho rivenduto a un'altra cosa mi interessava perché era con due pedali vediamo se quest'anno fanno un buon prezzo sulla corona BMW magari quant'è che è giusto adesso? c'è il corso 250, 300? cazzo si perché io avrei trovato il Club Sport V1 che è vecchio però a me piace quella base lì si andava bene, era il top per allora si, quello che dopo devo prendermi il volante capito? perché non me lo da devi vedere se quelli nuovi sono compatibili si no ma c'è ancora quello lì che hai appena detto tu della BMW che però secondo me è troppo grande è proprio Claudio dai dici che i pulsanti sono lontani vero Claudio? si ma è anche grande come circonferenza secondo me ce l'aveva un mio amico boh mi sembra esagerato come grandista di circonferenza sono belli quelli di McLaren quella roba lì comunque si però quelli sono da formula eh però vanno bene lo stesso eh ma manca il pezzo sopra e sotto se uno lo usa un po' per tutto io vado sempre con poco grado quindi potrei... anche se non mi demolivi la macchina io non ero io eh si si no mi sentite? io sto girando ho visto che usciva con il connecato con gli suver hanno saltato mi hanno bloccato il server ah ci siete? ci siete? connecato e lusse ls2 cosa dobbiamo fare uscire? eh si si ma non riesco a fare i tempi non sono concentrato vediamo dopo quando c'è una gara colpa mia ma dai uno e 26 esce niente sono entri più si si mi sentite? questo invece di riavviare erano spento forse vediamo se c'è la diretta ah si guarda è arrivata la notifica mi sentite allora? e cazzo rispondete no? no solo adesso però come solo adesso? eh prima non sentivamo niente eh mai sentito una parola non so come sei entrato voi avete messo il push talk? no 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 si io si si mette tutti o non si mette nessuno però? cos'è che è? ho capito io non uso perchè tanto non si sente io quello che faccio al di fuori del parlare e ha capito bene di cosa si tratta sì, è quello allora, torna in pitta, carichiamo allora, torna in pitta è possibile che mi dà dentro zero persone? no, ci siamo detti un po' comunque entro non so perché i box story, il mondo, a destra ah, perché sono i piazzoli sia a destra che a sinistra, visto adesso sono sempre stato qua porca cazzo noi, eeeh proprio quando andare a raccogliere un po' di margherita e fai quel cazzo ma sarà difficile quei doppiati se non ti lasciano passare in certi punti non è fuori un patatrack eh, dovremmo che, sì parecchie curve c'è la traiettoria sola no, stasera ma drittissima stasera stasera in chat c'è la la figliola di Acetone che fa il tifo ha già scritto 18.000 messaggi eh, orti non so quanto, quanto sia buona cosa vedere lo correre puttana puttana Grazie a tutti. Sì, la gente che è alta, ogni fuga. Non ha detto di te. Sì, ho visto di te. Oh, ma chi è questa? Non è molto scivolosa, continua a scivolare. Ti hai toccato il frense, hai partito lì. Sì. Io sono... Sono 3-4-7, c'ho quello di Raimondo, c'ho quello tuo. Non è il pallone più complesso. Vabbè. Ecco. Qualifica. Porca mattina, porca. No, siamo seco comunque. Non si dice più niente, no? Anche in TS dicevano qualcosa. Sentiamo qualifica, niente. Adesso via. Io quasi, quasi, parto con le software subito e metto le medie dopo. A fare un po' di selezione. Ma più che altro è che se tiene così ha paura. C'è un po' di traffico lì davanti. E partì davanti potrebbe essere buona cosa. Perché fai da lì. Ok, devo rilento un po' per sennò questi qui... Vai, vai. E occhio proprio perché sta arrivando dietro... Penso Nici, eh. No, penso che è davanti, Nici. Allora è Luca. Luca, sei te dietro? Eh, sei andato largo? Sì. Sì, sono io. Passa, Luca, dai. Eh, sì. Hai visto come mi fai la generazione? La cazzina che c'è. Come fai a partì? L'audio, cazzo. Eh? Quando c'è due auto di categoria inferiore davanti, figurati. Uno, setta volta da solo. Sì, mi sono andato nel culo, io ho uno. Oh, l'ho perso. No. Ah, arrivo, eh. Vai, vai, vai. Quattro su. Che? Ci stavo arrivando. Eh. L'hai visto? L'hai visto? No, solamente dai. Andr encourage. Ah, to be, ad me ci. Eh Rai, aspetta nel rettilineo, c'è traffico eh, eh ce l'ho dietro ma io ho il primo giro lanciato che sto facendo, a parte che lui ha sbagliato dietro di me, quindi pazientare un attimo, tanto giro la vado da puttane. Vai qua Gail, no vabbè continua ad andare, ho rovinato tutto. C'è a zero comunque, ma scotta. Passa qua Gail, vai. La fai, vai vai. La vaffanculo, vai. Va. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 che cazzo. sto combinando. a tutti. a tutti. non ci sbagli. a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. vai. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . C'è che una curva che faccio molto larga Me ne sono accorto Oddio cani No un'altra volta Quest'altro Dio porco Della madonna impestata del signore E mo mi ha rotto in quegli occhi E no adesso Adesso mi ha rotto il cazzo Alla prossima 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 Ah, Tonio non parli di fare le curve come non ci fosse nessuno si è aperto a tenere indietro un attimo Bolognesi dove passo? qua vai, vai interno dai è arrivato di traverso Bolognesi è infilato in muso è che poi ho sbagliato ha già dato 300 metri è che c'è dietro? c'è il collo del tempo qua è Ninci Ninci? Nel 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 Sono passate tutte e due? Sì Che cazzo Adesso è stanchino cazzo Ah vai affanculo vai Sono io eh Luca Vai 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 Sei lontano? Arrivo Adesso mi ostacoli un po' velo dietro Sì Eh Ma ha passato il porco Credo sì Cazzolina che cazzo Certo volante Ma che non ci ha gallentato parecchio Ma va un po' male sta macchina sinceramente Ma Nizzi era dietro con la Ferrari rossa? Sì Eh mi sa che l'ho L'ho Non so Non so se l'ho preso contro io E beh mi farà querela Ma quell'accettone che fa querela Vabbè ma me la fa giustamente Io proprio non l'ho visto Ho visto che c'era il radar Che è impazzito Per un attimo E non vedo più dietro nessuno Porco Dio Sì Mi caldo Tanto tanto Che è impazzito Che è impazzito Sì, l'hanno detto Confermo che gli ho preso contro Perché l'hanno detto nella diretta Dove avere 5 tagli, penso Non vedo la scritta No, non c'è ancora niente Sì, sì, non vedo la penalità Però non vedo quanti tagli ho stranamente Non vedo la foglia scritta Vai 2 giri a non fare penalità Tagliare in 2 giri Eh? Se tu 2 ce la fai 2 giri a non tagliare Sono 4 almeno Perché va che ci sono 2 giri Ah sì, sono 4 minuti Viego Sì, sì, sì Ma guarda a te Sto arrivando Beppe Porco Dio, anche Gelo Gelo ci si mette Un litro Un litro Cos'ho sbagliato qualcosa No, le gomme basta Ho preso col pieno quindi Se la fa col pieno Sì Sì Io ho fatto il conto Era 90 litri per me Qualtomaca? Mi hanno doppiato tutti Eh, io vado continuando a Ford Vista Non mi tengo più le Mi sta doppiando De Moncic E 17esimo E 17esimo quando mi si consumano le gomme non tiene tutto lo stesso prima e anche adesso madonna fotbolla no no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due giri. Grazie a tutti. 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 Tu dove sei Lord? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatelo dare.